Andrea Giovi, il libero dei Calcedonia Verona, una partita tirata dal primo all'ultimo set, proprio l'ultimo set con quattro match ball, poi comunque Latina ha recuperato. Un tuo giudizio su questa partita? Una partita tirata, equilibrata, Latina ha dimostrato di essere in crescita, di attraversare un momento sicuramente di buon gioco. È evidente che stanno crescendo, quindi dobbiamo essere contenti di questi tre punti fatti con una squadra che ha giocato bene a pallavolo. Quindi dobbiamo continuare su questa strada, continuare a vincere e migliorare. Dopo la vittoria domenica scorsa nel derby Vemeto, oggi la vittoria con Latina, il morale è adesso su. Sì, sicuro il morale è suo, abbiamo consapevolezza, però non basta, dobbiamo continuare a lavorare bene un'altra settimana in palestra e continuare su questa strada. Ancora la strada è in salita. Ho notato che proprio questa sera, nonostante nel primo e nel secondo set il puntaggio era a favore di Latina, non avete mollato e avete recuperato agevolmente. Sì, non abbiamo mollato, siamo stati bravi a tenere una fase break importante, che ci ha permesso di riprendere il conteggio certo, quindi siamo stati abbastanza ordinati in questo. Ora solamente poche ore, dopodiché mercoledì di nuovo in palestra per la prima di Coppa Italia. Sì, abbiamo la possibilità di strappare un biglietto per i quarti di finale di Coppa Italia, quindi dovremo sfruttare l'occasione e cercare di vincere questa partita per andare qua e di farci le nostre possibilità. Ti ringrazio, complimenti.